Ciao ragazzi per ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi parliamo dell'attesissimo aggiornamento 1.9 di Assetto Orsa Competizione ed anche del suo ultimissimo DLC GT World Challenge 2023. Ve lo dico subito ragazzi, sono stato positivamente colpito sia dal DLC che dall'aggiornamento 1.9 che propone CUNOS Simulazioni. Parlando del DLC si parla di tre nuove auto veramente stratosferiche, parliamo della Ferrari 296 GT3, erede della 488 GT3. Questa vettura che presenta un motore a 6 cilindri posteriore centrale che consente di avere un baricentro più basso e una maggiore rigidità torsionale rispetto appunto alla 488 che grazie alla sua aerodinamica permette di avere 20% in più di deportanza, minimizzando quindi la sensibilità ai cambiamenti di assetto. Segue poi la Lamborghini Huracan GT3 Evo 2, nata per rispettare i nuovi regolamenti FIA del 2022. Presenta nuove soluzioni aerodinamiche e sistemi di aspirazione. Infine, e questo è solo per numero, la 911 GT3 R, la famosa 992, che presenta un motore a 4194 cm3 con una trasmissione a 6 marce che offre cambi davvero non rapidi, di più, istantanei. Tutte e tre le auto sono disponibili appunto in questo DLC e mi hanno veramente impressionato. In particolare questa Porsche, ragazzi, che mi ha fatto arrizzare il pelo, come si dice, una macchina stratosferica. E poi nel DLC è presente anche il circuito Riccardo Tormo, situato a Valencia, che è uno dei protagonisti nella MotoGP, l'ultimo Gran Premio, dove si sono assegnati molti titoli mondiali della categoria regina della moto. Ragazzi, vi lascio il piacere di andare a scoprire queste auto perché sono veramente stratosferiche, date anche dagli aggiornamenti che sono stati apportati con questa versione 1.9 che adesso andremo a vedere. Kunos entra a gamba tesa con questa versione 1.9 di Assetto Corsa Competizione, uno degli aggiornamenti più attesi della comunità di Assetto Corsa Competizione, con sei punti fondamentali sul quale, diciamo, possiamo girare intorno a questo aggiornamento che è veramente molto tecnico, ragazzi, quindi non voglio entrare troppo nei dettagli. Però, per farvi capire, sono state riviste le pressioni dei pneumatici che avranno una finestra di funzionamento molto più ampia e che influenzano la flessibilità delle pareti laterali delle gomme stesse. Il secondo punto è la temperatura di queste gomme, che è più dinamica rispetto alla versione precedente e la scelta dell'allineamento delle ruote e della rigidità delle sospensioni influenzeranno notevolmente sulla generazione di calore. Anche la corsa minima dei bump stop è stata introdotta per evitare di caricare il tailaio con troppa energia eccessiva, cioè vuol dire che non vi ritrovate più dei cordoli che sembrano muri quando li prendete, praticamente. Inoltre, è stata rivista la simulazione degli ammortizzatori, che è stato migliorato, così come il force feedback, che ora influenzano la flessibilità delle pareti laterali dei pneumatici e delle pressioni dei pneumatici stessi. Ragazzi, il force feedback adesso vi restituisce anche che cavolo sta succedendo sulla gomma, è qualcosa di veramente straordinario. Il modello diplomatico, poi, ha subito numerosi miglioramenti nei dettagli, tra cui anche la resistenza al rotolamento e la sensibilità al carico. Poi è stata introdotta anche la logica TC, che è stata migliorata per offrire un maggior controllo sullo slittamento dei pneumatici stessi. Insomma, ragazzi, in generale, questa versione 1.9 di Assetto Corsa Competizione offre un'esperienza di guida più realistica, con pneumatici più dinamici, sospensioni migliorate e un force feedback molto più preciso e sensibile. Ragazzi, il consiglio che vi do è di andare a testare questo nuovo aggiornamento, perché ne vale veramente la pena. Non sono solito consigliarvi di andare a prendere DLC, ma con questo aggiornamento, con queste tre nuove auto, questi tre bolide, questo fantastico circuito, veramente mi sento di consigliarvelo. Se questo video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un pollice in su. Non esitate a lasciare un commento. Noi ci vediamo prestissimo e mi raccomando iscrivetevi al canale. Tanto è gratuito. Noi ci vediamo presto. Da Fabrice è tutto. Ciao.